Il ritorno della corsa podistica a Forlì Ravenna dopo 20 anni, nella 1990, si era interrotta questa manifestazione che era iniziata nel 1977. Una manifestazione che ritorna grazie al contributo del Trail Romagna in collaborazione col Comune di Ravenna e lo IOR. Parliamone proprio con il Presidente del Trail Romagna, Ciro Costa. Ecco, Presidente, sotto quale segno ritorna questa manifestazione? Di sicuro sotto il grande entusiasmo di riprendere una gara epica, storica e quindi di coniugare le due province, Forlì e Ravenna. E quindi questo grande aspetto di solidarietà e di vicinanza, di buon vicinato, che contraddistingueva anche l'epica Forlì-Ravenna, purtroppo interrotta, come giustamente diceva lei nel 1990. La gara naturalmente è una gara in linea e la distanza consente naturalmente di avere un supporto organizzativo, aggiungerei anche il Comitato delle Società Podistiche Ravennati e nel Comune anche di Forlì, con tutte le forze dell'ordine, che ci danno un supporto estremamente importante. Abbiamo più di 250 volontari sul territorio. La gara naturalmente, nello stile di Trail Romagna, ha una trasversalità. Quindi ha l'evento Clou, che sono i 30 chilometri, e poi una staffetta per chi naturalmente nell'epoca aveva fatto e oggi si ritrova qualche annetto in più. Quindi abbiamo inserito questa staffetta proprio per far avvicinare, e si sono avvicinati tanti che partecipavano in quegli anni lì, e si sono suddivisi la distanza. Quindi anche questa è stata una scelta azzeccata. Il percorso naturalmente parte da Piazza Saffi e questa volta non segue la Ravignana per ovvi motivi di traffico, di viabilità, ma all'argine destro del fiume Ronco, che la caratterizza ancora di più, perché è un ambiente sicuramente ancora più gradevole. e poi si svilupperà, arriverà in città, in pieno centro a Ravenna, con arrivo in Piazza Garibaldi.